Procinto di mettervi in viaggio per percorrenze medio-lunga, questo è il momento per sapere come si viaggia sulla rete autostradale in queste ore. Allora buongiorno ad Alessandra Canale, Rai Mobilità. Sì, Maria Angela, buongiorno. Mercoledì 19 aprile, caratterizzato da flussi veicolari vivaci sulle strade della nostra regione per i consueti spostamenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative scolastiche. Monitoriamo come di consueto le immagini che ci giungono in diretta dal ponte San Giorgio che evidenzia appunto flussi veicolari regolari in entrambe le direzioni. Ad ogni modo già si registrano delle code per lavori sia sulla 26, la Genoa Gravello-Notoccia al momento di 2 km tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri, code che ritroviamo anche sulla Genova-Ventimiglia tra Orco-Fellino e Spotorno in direzione di Genova sempre per 2 km. Nel piano di ammodernamento e manutenzione di autostrade per l'Italia c'è una stima dei tempi di percorrenza molto superiore alla norma da bollino rosso che vediamo con l'ausilio della grafica, come vedete, sull'A26 in entrambe le direzioni fino alle 13 e dalle 16 alle 19. Mi fermo qui, comunque per ulteriori informazioni potete sempre consultare il sito www.autostrade.it nella sezione dedicata alla viabilità della Liguria. Mi restituisco la linea a te Mariangela, buona giornata a te e ai nostri telespettatori, arrivederci. Grazie ad Alessandra Canale, ricambiamo gli auguri di buona giornata e buon lavoro. Chi ha figli piccoli conosce bene.